Giovanna è una persona speciale. Il professor Giordani è una persona meravigliosa. Mi ha cambiato la vita. La ringraziamo molto di cuore. Mi amore, mi amore. Fermo! Con questa dichiarazione d'amore ti voglio tanto bene. Emozionato, non so cosa dire. Ti hanno conceduto, non lo puoi spiegare. Ma quante sorprese stasera! Io! Ma Giovanna, l'hai riconosciuto o no? È una cosa meravigliosa. Ma questo è il titolo della vita? Sì, sì. La vita è meravigliosa. La vita è meravigliosa. Domenica con Mara Venier alle 20.30 su Canale 5.